Qui, signore. Adesso. Spostati, figliolo, ti spacco la mascella. Capo Breshir, non mi sembra questa la sede più adatta. Voglio che la commissione veda, signore. Comandante Hanks, la sua opinione mi trova del tutto consensiente. Il pavimento sdrucciolevole impedisce di per sé la dimostrazione. Non ha avuto già abbastanza guai nella sua carriera? La sua presenza e il suo parere non sono graditi. Chi è quest'uomo? Capo Leslie William Sunday, signore. È uscito a nuoto dalla cello a Lady Golf, restando in apnea quattro minuti. Cinque, signore. Può restare, Hanks. Bene, è irrilevante. Signori, per tornare alla questione che ci interessa, non è questo il luogo né il momento perché il capo Breshir... Mi scusi, capo Breshir, c'è qualche problema? Comandante Hanks, ho passato la mia vita in marina con l'unico desiderio di realizzarmi. Un desiderio però che è costato gravi rinunce da parte dei miei cari. Anche loro hanno affrontato sacrifici. Anche loro hanno sofferto molto per aiutarmi. Se faccio quei dodici passi richiesti, reintegratemi in servizio permanente. Ridatemi il mio lavoro perché lo porti a termine. e torni a casa in pace. Senza capo Breshir, il mestiere è di un moderno marinai... Mi perdoni, signore. Per me la marina non rappresenta un mestiere. Le sue lunghe tradizioni durante la mia carriera le ho seguite dalla prima all'ultima. Le buone e le cattive. Ma certo non sarei qui oggi se non fosse per quella più grande di tutte. E cioè quale? L'onore, signore.